Sono una cinquantina i migranti richiedenti asilo che vivono a Villa Francescatti, a Verona, nella struttura gestita dagli operatori del Samaritano. Hanno storie diverse da raccontare per tutti, l'impossibilità di restare nella propria patria e la necessità di cercare protezione e futuro altrove. Tanti di loro lavorano come Ansumana, operatore del Don Calabria. Cosa facevi in Senegal? In Senegal studiavo fino all'università, facevo la geografia. E adesso in Italia, cosa ti piacerebbe fare? In Italia il mio sogno è di fare il lavoro di saldatura, ma adesso sto facendo il lavoro di operatore a Don Calabria. Cosa ti manca particolarmente del Senegal? Si, si mancano tante cose, mi mancano gli amici, mi mancano i miei genitori, però ho fatto tanto tempo e non ho visto mia mamma e anche mia sorella. Qual è la realtà qui dei richiedenti asilo? Qui a Villa Francescatti vivono 50 persone che stanno affrontando il processo della richiesta asilo. Vuol dire che sono in attesa di vedersi riconosciuta una forma di protezione internazionale oppure no. Sono in questo processo nel senso che questo periodo può durare da un anno anche a tre anni. Alian ha 23 anni, è pakistano, lavorava come rider portando in giro pasti a domicilio. Adesso è occupato in un ristorante conosciuto grazie a questi contatti. Perché sei andato via dal Pakistan? Perché in Pakistan c'è poco problema, sono lasciato dal Pakistan. Ascolta, adesso hai trovato finalmente un lavoro? Sì, prima ho lavorato in just street, ma adesso io lavoro in residente. Questi giovani che vengono da tanti paesi diversi esprimono un tratto comune, il diritto di sognare e di avere una prospettiva migliore. A relazionarsi con loro ha anche una giovane in servizio civile, Marta. Io sto imparando tantissimo dalle relazioni, quindi è un servizio che non è tanto sul fare tante attività, ma sullo stare in relazione con gli utenti, gli ospiti che incontro.